A livello personale sto andando bene con gli altri gols, però penso che il più importante è vincere le partite e poi alla fine anche i gols. Sì, come hai detto, dobbiamo crescere in quella fase di gestire meglio la partita negli ultimi minuti. Il sesto risultato ultimo consecutivo di questa squadra, cosa è cambiato rispetto alle primissime giornate in cui qualcosa non veniva fuori? Io penso che non è cambiato niente, abbiamo sempre tanto iniziato lavorato bene, certo poi quando vengono i risultati la testa anche sta più tranquilla, quindi penso che con il lavoro vi risultato meno da sole. Senti, visto che sei di riferimento per il reparto di gestione, ti chiedo con chi dei compagni ti trovi un po' meglio e soprattutto chi stai vedendo crescere meglio in questo percorso che è cominciato dall'inizio stagione? No, guarda, io mi trovo meglio con tutti, anche con Olivieri, con Lannini, con Armi, con Veltrano, penso che con tutti abbiamo un buon rapporto, quindi per me non cambia nulla che gioca. C'è un obiettivo che vi siete dati a mano in questo percorso? No, l'obiettivo è partire da un partito, prendere i tre punti ogni campo che andiamo, penso che è quello che dobbiamo mettere in testa. Allora ti chiedo un'altra cosa, perché Olivieri e Andri sono andati anche in prima squadra, qui c'è il tuo idolo, Cristiano Ronaldo. Insomma, ci speri che da qui a fine di questa stagione possa avere anche tu la possibilità di vivere una partita insieme a lui, un retiro insieme a lui? Sì, si spera sempre, però penso che con calma, con tranquillità e continuando i lavori che sto facendo penso che poi le cose vengono naturalmente. Altra domande? Grazie mille!